Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rivolge il suo cordiale e benaugurante pensiero, salutando con differenza il signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Marcarella. Poi un ringraziamento a Sovirenza Reverendissima, Cardinale Artiglio di Cora, che come sempre con il suo saluto... Benvenuti alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2016-2017. Rievoca l'impegno per valorizzare i migliori e per ogni... ...che giustamente continuano ad interrogarsi sulla direzione dello stesso. Grazie. 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 Grazie.